E' Rigoni che va a supporto al centrocampo, palla rubata da Castro, possibilità di contropiede per il Chievo perché Radovanovic adesso avanza, serve Cacciatore sul settore di destra, si ricompatta al Genoa in difesa, Cacciatore in aria di Rigoni, Castro, Rote, 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 Lucas Castro, Genoa, 0, Chievo Verona, 1. Grandissima azione del Chievo, proprio iniziata da Castro che è andato a rubare un pallone incredibile a Cerci, poi la palla ha girato su Radovanovic e poi su Cacciatore che ha rimesso il pallone in mezzo, il primo ad arrivare, il più lesto, proprio Castro che ha terminato l'azione, che ha iniziato, 1-0, un gol molto molto bello. E' un giocatore, possiamo dire, determinante per il Chievo quando è in forma, anche in questo caso eccellente nel recupero della palla, eccellente allo stesso modo nell'andare a colpire di testa, sottoporta e portare il Chievo in vantaggio sul Genoa quando i minuti sul cronometro sono 6, Lucas Castro porta in vantaggio la formazione di Erolando Maran.